Nell'ultimo anno e mezzo, nonostante lo sforzo di alcuni di noi che abitano in queste zone, non facciamo pari a recuperare quello che purtroppo lasciano lungo queste sponde. Ancora rifiuti abbandonati vicino a Ponte Buriano, frazione del comune di Arezzo, famosa per il quadro della gioconda di Leonardo da Vinci. A segnalarci la presenza dei rifiuti proprio nei pressi del Ponte Romani, con il tratto di strada bianca che costeggia l'alveo del fiume Arno tra Ponte Buriano e Buon Riposo, sono stati alcuni cittadini. Dai resti di picnic fino a scarti edili, quindi calcinaccio, e fino a quello che abbiamo trovato dieci giorni fa, che penso siano dei residui di comunque un'attività agricola e un ingente quantitativo di sacchi di mangime per cavalli. Voi avete ripulito più volte la zona, avete provato a mettere anche dei secchioni? Sì, l'abbiamo fatto dall'altro lato di questa strada. Il risultato c'è comunque stato perché chi viene a Buon Riposo a fare il picnic classico e chi ha rispetto per queste zone usa quei due cassonetti. In altri casi invece il volume di rifiuti è tale che non ci permette di riuscire a stargli dietro, per cui chiediamo un aiuto. Almeno per la rimozione di questi rifiuti credo sia importante magari un domani anche l'installazione di fototrappoli, ove non chiudere la strada vicinale, visto che ha molti accessi, almeno non c'è mai in fondo da dove vengono a fare dei scarichi, gli scarichi con delle U rovesciate, comunque sia dei blocchi per non permettere l'accesso. Novità in arrivo invece per quanto riguarda il progetto di restauro conservativo del ponte della Gioconda. La provincia di Arezzo ha fatto la gara per eseguire lavori di ristrutturazione per porre Ponte Buriano in condizioni migliori e rivalorizzarlo per quello che è una struttura medievale molto importante.